L'ordine è fatto ieri, è arrivato? Sì, è appena arrivato, il magazzino per tardi lo vado a scaricare. Ah, ok. Buongiorno. Buongiorno. Cosa ti posso servire? Un caffè, per favore. Certamente. Grazie. Prego. A te. Grazie. E quanto le devo? Nulla. Offre la casa. Grazie. Molto gentile. E' bellezza, ma qual'è il tuo nome? Jenny. Tu? Nunzio. Piacere. Cosa sarà? Lo sai che hai uno sguardo stupendo? Grazie. Sai, anche tu sei un bel tipo. Che ne dici stasera di una cenetta, lui di candela? Ma sì, perché no? Va bene. Perfetto. A stasera. Ci vediamo stasera, allora. Ok. Ciao. Ciao. Senti, vorrei ricordarti che questo è un bar, non un'associazione di beneficenza. Oh, solo per un caffè che ho offerto a una bella ragazza. Ma qual'è il problema? Ma qual'è il problema? E' proprio questo il problema. Tu offri le consumazioni alle belle ragazze e io la sera sono costretto a mettere i soldi in cassa per far quadrare i conti. Wow, sei un amico, allora. Smettila. Se non vuoi prendere la cosa seriamente, io me ne vado. non fare il gelosone. Ma qual'è il gelosone? Forse non ti rendi conto che qua la figura del cattivo la faccio io, tu offri e io pago. Allora, se questo è il problema, facciamo così, ci invertiamo i ruoli. Però non temi ad andare adesso, ora che le cose stanno andando a gonfievele per entrambi. Va bene, voglio darti un'ultima possibilità. Ma voglio che da oggi in poi fai pagare le consumazioni come scritto da listino. Ok. Bene. 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 Bene.